Ci sono luoghi da esplorare, già dalle prime luci dell'alba. Per vivere i primi colori del cielo e della terra. Per incontrare sinceri sorrisi, respirare gli odori e ricordare i sapori. Esistono luoghi da trovare lungo il cammino. Luoghi che riservano meravigliose sorprese. Luoghi dove tuffarsi in un'oasi di tranquillità, che svelano spazi incontaminati e dove il tempo pare si sia fermato. Esistono luoghi che accolgono l'anima e regalano pace. Luoghi dove conoscere e riconoscersi con gli occhi pieni di curiosità. Esiste un luogo dove ascoltare il suono del cuore e lasciarsi tutto alle spalle. Esiste un luogo unico. Un luogo dove far volare le emozioni, senza il timore di tornare a giocare. Esiste un luogo dove puoi nasconderti, per ritrovarti e non farti trovare. Noi sappiamo dov'è.